Allo stesso tempo, proprio domani mattina, noi insieme ad un mondo vastissimo, c'è la Will, ci sono tutte le associazioni che con noi hanno dato vita alla Via Maestra, ci sono tutte le forze politiche d'opposizione, ci sono un sacco anche di personalità, di intellettuali, noi domani mattina andremo a firmare per depositare il quesito di abrogazione totale per avviare una raccolta di firme da concludersi entro il mese di settembre per essere certi naturalmente che ci sia referendum per indicare che oltre alla volontà politica delle regioni c'è la volontà politica dei cittadini italiani di non accettare una legge valorda che mette in discussione la dignità, l'unità di questo Paese, ma soprattutto mette in discussione i diritti fondamentali e quindi la libertà delle persone.